Ciao a tutti, come rendere dipendente da te un uomo? In questo video voglio spiegarti cosa fare, come fare, per rendere dipendente da te un uomo. Prima di affrontare questo tema, però, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco. Ti ricordo di noti che sul canale è possibile abbonarsi, abbonandoti potrai dare un sostegno al canale, oppure, se fai l'abbonamento seminario online, partecipare al mio seminario online, che sarà martedì 8 settembre, dalle ore 20.30 fino alle 23, sarà un corso online completo sulla legge di attrazione per sedurre e farti amare, quindi dalle 20.30 alle 23. Poi il video resterà, sarà in diretta martedì 8 settembre dalle 20.30 alle 23, ma poi ti durerà un mese, quindi avrai tutto il tempo di vederlo, stravederlo e rivederlo. E veniamo dunque al tema, veniamo dunque al tema, come rendere dipendente un uomo da te. Allora, beh, intanto bisogna dire questo, se vuoi renderlo dipendente, quindi generargli un attaccamento nei tuoi confronti, generargli devozione, generargli quello che poi spesso viene chiamato anche innamoramento, che poi in realtà è di fatto una forma di dipendenza, quello che devi imparare a fare è quello di non comportarti nel modo sbagliato. Quindi ci sono delle cose da fare che adesso andremo a vedere, ma prima c'è da evitare degli errori, perché ci sono errori grossolani che fanno allontanare le persone, quindi questi errori grossolani devi comunque evitarli. Gli errori grossolani quali sono? Beh, quello più grossolano è quello di essere appiccicosa, fare l'appiccicosa, stargli appiccicata, fare la patella, diciamo, che si appiccica lo scoglio. Ecco, questo è quello, l'errore è questo da evitare, mandare 500.000 messaggi, tempestare di messaggi, fare la gelosa, farla possessiva, questo è un qualcosa di estremamente negativo, è un qualcosa che devi tenere presente, è estremamente negativo e tutto questo ovviamente si può manifestare in modalità completamente diverse, cioè sia con un atteggiamento, diciamo, eccessivamente scusate, andiamo in diretta, sia un atteggiamento eccessivamente, possiamo dire, pressante, tartassante, ma anche con persone che comunque fanno sentire costantemente la presenza. Non potrai mai rendere dipendente da te una persona se gli dai la certezza che ci sei, se gli dai la certezza che sei lì presente. Questo è un dato di fatto, devi tenerlo presente, non puoi fare diversamente. Come se diventi tartassante è ancora peggio. Quindi devi eliminare questa situazione, questa è la cosa fondamentale. Una volta che hai eliminato questa situazione, devi giocare d'astuzia, certo. Per 21 giorni li crei l'abitudine del fatto che comunque sei una persona sicura, che sei una persona coinvolta al giusto, diciamo, ma una persona che dà una certa regolarità, ad esempio nel mandare messaggi, che ripeto non deve essere un tartassamento, e che dà gratificazioni, anche ad esempio di natura sessuale, insomma, dà gratificazioni. Questo per generare questa abitudine. Dopodiché, ed è importante quello che dico adesso, senza alcun motivo, cioè non ci deve essere alcun motivo, devi togliere questa abitudine, iniziare con quello che Skinner chiamava rinforzo intermittente, cioè la gratificazione, il messaggio, eccetera, eccetera, anche la gratificazione sessuale non deve essere più scontata, deve, tac, ogni tanto sì, ogni tanto no, ma devono essere più i no che i sì. Cioè, ogni tre penalizzazioni, penalizzazione si intende non faccio quello che vuoi, ti metto una gratificazione, faccio quello che vuoi, su, come nel ritmo di musica, quattro quarti, su quattro quarti, tre penalizzazioni, una gratificazione. Questo genera in lui un primo condizionamento, una prima ossessione verso di te, in modo ossessivo, perché vuol capire, la parte logica non capisce, vuol capire assolutamente qual è il motivo per cui capita questo, quali sono le motivazioni per cui non è scattata ancora la gratificazione, ma scatterà ogni tanto. Ecco, questo è il presupposto fondamentale per la seconda fase. La seconda fase è quella di farvi venire il dubbio, che ci possono essere altre persone. Già questo può individuare una sorta di dubbio, però il dubbio devi farglielo venire creandoti una plettora di antagonisti. Cioè è fondamentale che tu ti crei una plettora di antagonisti, di persone che devono essere loro a corteggiare te. Questo, devi tenerlo presente, è molto importante. Devono essere loro a corteggiare te e non viceversa. Quindi tutta questa serie di antagonisti è basilare, è fondamentale, è fondamentale per far sì che questa persona si coinvolga, per far sì che questa persona si innamori, per far sì che questa persona sviluppi dipendenza nei tuoi confronti. E il dubbio, lasciare le cose incomplete, lasciare delle guest altaperte, Sì, vabbè, vedremo, forse. Cosa faremo questa fine settimana? Ma guarda, devo vedere se riesco a liberarmi, non so, poi ne riparliamo. Poi ti richiamo e ti dico, e non lo richiami. Ecco, questo genera quello che viene chiamato effetto Zygernik, cioè la guest altaperta che in qualche modo vuole essere chiusa. E questo spinge l'altra persona a pensarti sempre più intensamente. Ecco che mettendo assieme queste tre strategie si genera dipendenza, una forte dipendenza. Ovviamente la cosa da tenere presente è importante che gli antagonisti, non devi essere tu che te li vai a cercare, se no inneschi i meccanismi di squalifica, ma devi trovarti una plettora di corteggiatori. Quindi lui deve percepire che ci sono uomini interessati a te. Per fare questo, beh, semplicemente puoi anche dire, no, cambiare un po' di abitudini, no? Dire, ma mi scrivo a un nuovo corso, faccio questo, faccio quello, ma no, stasera mi hai invitato a cena il capo ufficio, deve parlarmi di lavoro, per dire, no, inventare delle cose, o che siano cose reali, se tu riesci a generare questo, in modo tale che, insomma, intuisca in qualche modo che ci sono uomini interessati a te. Questo genera una dipendenza basata anche sull'istinto di competizione che hanno i maschi, proprio retaggio, diciamo, della vita passata, dello sviluppo filogenetico. Ecco, queste sono le strategie tattiche che ti permettono di far sì che questa persona sia veramente dipendente da te. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, se non l'hai ancora fatto, attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Ti ricordo che sul canale puoi abbonarti, per i vari abbonamenti c'è anche seminario online, quindi se vuoi partecipare al mio seminario online, martedì 8 settembre, ore 20.30 fino alle 23, il corso online sulla legge dell'attrazione per sedurre e farti amare. Bene, ti aspetto martedì 8 settembre, abbonati. Ciao a tutti!